Ciao ragazzi, in questo video concludiamo il discorso sui monomi che abbiamo cominciato nei video precedenti della playlist, dando un'occhiata ad alcune delle tipologie più classiche di esercizi sui monomi che si trovano tipicamente sui libri di matematica del biennio delle superiori. Senza perdere altro tempo, diamo subito un'occhiata al primo esercizio che ci chiedeva di completare le seguenti uguaglianze inserendo il monomio mancante. Se diamo un'occhiata alla prima, che forse è la più facile, vedete che abbiamo un 2x alla terza y alla quinta che sommato ad un certo monomio deve darci un 11x alla terza y alla quinta e questo monomio che dobbiamo inserire qui, lo si intuisce facilmente, deve essere 9x alla terza y alla quinta. Cerchiamo di capire come mai. Beh innanzitutto notate che questo monomio e il risultato sono simili tra loro, cioè hanno la stessa parte letterale e quindi avendo una somma a sinistra anche il termine che manca deve essere simile agli altri due, dunque deve avere come parte letterale x alla terza y alla quinta. A questo punto ricorderete in una somma di monomi simili si sommano i coefficienti e quindi se il coefficiente del monomio risultante è 11 e il coefficiente del monomio di partenza e 2, naturalmente il coefficiente dell'altro monomio dovrà essere 11 meno 2, ovvero 9. Ragionando in maniera simile ci si convince che il monomio che dobbiamo mettere qui è 5 mezzi a b quadro, infatti deve essere simile agli altri due, dunque deve avere la stessa parte letterale e il suo coefficiente deve essere tale per cui 3 meno lui dà come risultato un mezzo e quindi il numero da mettere qui è sostanzialmente 3 meno un mezzo, ovvero 5 mezzi. Per quanto riguarda la terza e la quarta uguaglianza, ricordando quello che abbiamo detto sulla moltiplicazione e la divisione tra monomi nei video precedenti, ci si convince subito che qui dobbiamo mettere meno 3y e qui sotto invece 3x alla 17. Così facendo infatti nel primo caso abbiamo un 2 terzi che è moltiplicato per meno 3 dà come risultato meno 2 e poi vedete ci ritroviamo con un x per y per y che fa xy quadro e quindi le cose funzionano, mentre nel secondo caso vedete abbiamo un 3 diviso 3 che dà come risultato 1 e infatti qui non vediamo alcun coefficiente perché c'è un 1 sottointeso, mentre poi abbiamo un x alla 2017 diviso x alla 17 e come sappiamo in questo caso si tratta di sottrarre gli esponenti e quindi abbiamo 2017 meno 17 che effettivamente fa 2000. Ma per dirla in termini equivalenti, il monomio che dobbiamo mettere qui è quello che si ottiene prendendo il risultato della moltiplicazione e dividendolo per il primo dei due fattori, mentre il monomio che dobbiamo mettere qui è quello che si ottiene prendendo il dividendo e dividendolo per il risultato della divisione. Per quanto riguarda invece le due potenze, nel primo caso il monomio mancante è 3 mezzi a alla terza b alla quarta, mentre nel secondo caso dobbiamo mettere un 23xyz. Cerchiamo di capire perché. Nel secondo caso le cose sono molto semplici, basta ricordare che quando eleviamo un monomio alla 1 il risultato che otteniamo è esattamente il monomio di partenza, quindi qui dentro dobbiamo metterci lo stesso 23xyz che otteniamo come risultato. Mentre per capire chi mettere qui all'inizio dobbiamo chiederci qual è il monomio che elevato alla terza, ovvero moltiplicato per se stesso 3 volte, dà come risultato 27 ottavi a alla nona b alla dodicesima. Beh partendo dal coefficiente è facile convincersi che deve essere 3 mezzi, infatti 3 mezzi è il numero che elevato al cubo dà come risultato 27 ottavi. Mentre per capire quali sono gli esponenti da dare alle lettere, basta ricordarci che quando eleviamo le lettere a potenza, quello che succede è che poi gli esponenti si moltiplicano e quindi se vogliamo ottenere un a alla nona, qui dentro dobbiamo mettere un a alla terza in modo tale che 3 per 3 dia come risultato 9 e analogamente se vogliamo ottenere un b alla dodicesima, qui deve esserci un b alla quarta, così in questo modo 4 per 3 effettivamente fa 12. Rappurato questo diamo adesso un'occhiata ad un secondo esercizio che ci chiedeva di considerare i monomi ab alla seconda c alla quarta, a elevato alla 3x per b alla quarta e 2b alla quinta per c elevato alla y. La prima domanda che ci fa l'esercizio è quella di determinare i valori che devono avere x ed y affinché questi 3 monomi abbiano lo stesso grado. E per rispondere alla domanda ci basta notare che il primo dei nostri 3 monomi ha come grado complessivo 7, visto che 7 è la somma degli esponenti delle sue lettere. Ora, se vogliamo che anche il grado degli altri due sia quindi 7, non è difficile convincersi che al posto di x qui dobbiamo mettere 1, così ci viene un 3 per 1 che fa 3 e sommato a 4 viene 7 e al posto della y qui dobbiamo mettere 2, così che anche il grado di questo monomio diventa 5 più 2 ovvero 7 e quindi lo stesso dei monomi precedenti. Appurato questo, l'esercizio ci chiedeva di determinare il minimo comune multiplo e il massimo comune divisore dei 3 monomi utilizzando come valori di x ed y quelli che abbiamo trovato poco fa e quindi vedete che qui sotto vi ho riscritto i 3 monomi sostituendo al posto di x ed y rispettivamente 1 e 2. Ora, trattandosi di monomi il cui coefficiente è un numero naturale, è chiaro che il massimo comune divisore avrà come coefficiente il massimo comune divisore di questi tre numeri, ovvero 1 e quindi possiamo qui sotto intenderlo. Mentre come parte letterale, come sappiamo, nel massimo comune divisore dobbiamo prendere solo le lettere che compaiono in tutti e tre i monomi prese una sola volta con l'esponente più piccolo possibile. E qui l'unica lettera che compare in tutti e tre i monomi è la b e la prenderemo con l'esponente 2 che è il minore tra quelli disponibili. Per quanto riguarda invece il minimo comune multiplo, dobbiamo prendere stavolta il minimo comune multiplo dei coefficienti, che nel nostro caso è 2, e nella parte letterale dobbiamo prendere tutte le lettere che compaiono in almeno uno dei tre monomi prese una sola volta con l'esponente più grande possibile. E dunque tra a e a alla terza prenderemo alla terza, tra b quadro, b alla quarta e b alla quinta prendiamo proprio b alla quinta e tra c quadro e c alla quarta prendiamo il c alla quarta. Dunque il minimo comune multiplo è 2a cubo b alla quinta c alla quarta, mentre il massimo comune divisore è b quadro. Per concludere diamo un'occhiata ad un ultimo esercizio che ci chiedeva di semplificare il più possibile questa espressione e di precisare il grado del monomio risultante. Ora, per risolvere un'espressione con monomi, che è forse la tipologia di esercizio davvero più classica che si può dare sui monomi, è sufficiente ricordare che le operazioni vanno fatte nel medesimo ordine delle espressioni con numeri. Quindi dovremmo fare innanzitutto le potenze, poi le moltiplicazioni e le divisioni, e per ultime le addizioni e le sottrazioni, ovvero la somma algebrica. E naturalmente nel procedere dovremo tenere conto della presenza e del posizionamento delle eventuali parentesi. La prima cosa che ci conviene fare è quindi svolgere le varie potenze che compaiono in diverse posizioni dell'espressione. Nell'ordine abbiamo quindi un meno a x che elevato al cubo dà come risultato meno a cubo x al cubo, per il solito discorso che dobbiamo moltiplicare gli esponenti, e il meno naturalmente resta perché stiamo facendo una potenza dispari. Poi abbiamo un meno 2x che elevato al quadrato dà come risultato un 4x quadro. Dopodiché abbiamo un mezzo a che elevato al cubo dà come risultato un ottavo a elevato al cubo. Un meno a quadro che elevato alla terza dà come risultato meno a alla sesta. E notate che nonostante l'esponente alla fine venga pari, il meno resta perché stiamo di nuovo facendo una potenza dispari. E infine qui fuori abbiamo un meno 2x che quando viene elevato al cubo dà come risultato meno 8x alla terza. A questo punto se svolgiamo questa divisione otteniamo come risultato un meno un quarto alla terza x, mentre se svolgiamo questa moltiplicazione qui il risultato diventa naturalmente un ottavo alla terza x, il tutto con un meno davanti visto che avevamo un meno qui. E infine se facciamo x quadro per meno alla sesta il risultato sarebbe meno alla sesta x quadro. E se dividiamo il tutto per x al cubo il risultato che otteniamo è semplicemente meno alla terza x. Dunque vedete ci troviamo in parentesi tre monomi simili che possiamo tranquillamente sommare e che danno come risultato un meno 11 ottavi alla terza x. Per vincere non ci resta quindi che moltiplicarlo per meno 8x alla terza ed è facile convincersi che il risultato è quindi 11 alla terza x alla quarta. E questo naturalmente è un monomio di grado complessivo 7. Detto questo ragazzi io per il momento ho terminato. Spero che il video vi sia stato utile per ricapitolare un po' tutto quello che abbiamo detto sui monomi. Se vi fosse rimasta qualche domanda non esitate a farmela nei commenti qui sotto. A partire dal prossimo video della playlist ci occuperemo invece di polinomi. Come sempre se trovate utili queste video lezioni ricordatevi di mettere mi piace. Passate a trovarmi su facebook ed instagram e date un'occhiata all'interno del canale dove troverete moltissimi altri video.